ora io da qua lui non me la fa fare vero che palle come faccio io a fare le foto hanno ne ho dieci armi 35 archi 8 archi o scudi fammi vedere scudi ah dai va bene puliamo qua più che altro perché gli archi ho notato che non mi si spaccano mai perché li uso poco e c'ho solo archi reali lettericamente non c'è l'arco l'arco tipo di ilia cioè non c'è come la spada o lo scudo un arco speciale a posto di link vero non credo cioè non lo so in realtà io se vado di qua teoricamente qua cosa c'è acqua c'era la la sword per questo io vado dritto senza calcolare i corogu che saltano via potrei trovare l'altro corogu giusto che poi mi ricordo io c'ero venuto da ste parti quei piccioni posso fare un double ah è vero che spara più colpi grazie allora davvero gentilissimo perché io c'ero venuto da queste parti se vi ricordate bosco perduto ok ma dov'è il corogu dove sto andando ah no di qua esco ah no loro no cioè teoricamente li escono è l'uscita io invece devo andare dall'altra parte verso lo stagno di saria no davvero perché se vi ricordate lo stagno di saria non potevamo andarci non ci mandava e ci faceva tornare indietro per cui teoricamente fa tutto con le sfide deve essere una roba legata alle sfide a parte il robo di macore che non ho capito vabbè le rane scappano il robo di macore non ho capito davvero come funziona quello si rifugia oh amici sarà qualcuno che si fa fare la foto eh per farmi ritrovare i sacrari gli altri corogu o sono tutti così qua dov'è? aha ciao sei te? yes prova corogu prova corogu ah punto così ti spiego in cosa consiste devi proseguire senza perderti per via della nebbia facile sì se mi ripeto il presso vai tranquillo ti ho un indizio l'albero che ti vuole il ferro ti indicherà la strada lo riconoscerai con il potere del controllo oh ho capito ho capito stasi oppure o stasi o o calamitron ho capito vabbè ma si vede anche scusa però non posso toccarli eh va bene sembra una cosa abbastanza facile posso posso dire posso dire di essermi anche già perso scusate albero che controlla il ferro sei te? è lui è ok poi questo poi ed è finito che poi perché ho detto alberi che controllano il ferro che senso ha? no mi sono perso va bene non è così cioè non è facile come pensavo torna indietro torna indietro torna indietro ma non si torna indietro è possibile tornare indietro? cioè se te ne accorgi proprio in tempo ma devi essere precisissimo se te ne accorgi puoi tornare indietro? e non farti catturare? è possibile? no perché può essere magari sono scarso io no? ah era laggiù comunque non l'avevo vista ok poi è qua giù poi è lì ok poi è qui poi è là ok forse ci stiamo avvicinando eh qua c'è un qualcosa scudo rugginito ah così? ma loro qua? aia 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 vai via 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 maledetti scudo rugginito ce l'ho? come foto dico? no bella mi piace questa foto così sì mi mancano un po' di eh che cacchie di armi vabbè quelle rugginite meno male si trovano si trovano subito ecco cos'è qua? l'annoso scudo che ah ok va bene vieni qua maledetti se mi toccate di nuovo vi spacco tutti te cosa? ok no aspetta io dove sto andando da un sacrario ambra ma qua c'è il ventaglio ok per andare su il ventaglio cacchie da quant'è che non vado in giro col ventaglio vai piccola che bello comunque volendo possiamo anche andare alle sfide sei un maledetto sei un maledetto guarda te non potevamo dirlo prima ok quindi lo scrigno no non posso prenderlo ok vabbè giustamente sennò potevo fare di tutto giusto così vai là vabbè vieni qua piccolo stanno cercando te opla dai il sacrario cacchie vi immaginate non doveva aprirlo oddio sapete che 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 bastardata cioè voi non dovevate aprirlo vi serviva lo scudo chiudo loro cacchio e poi magari vabbè vi faccio rifare la prova e ve lo richiudeva no bellissimo ci sarebbe stato un sacco dov'è che me l'ha messo aspettate ah qua ok dove sono allo staglio e saria no ci sono arrivato cacchie vabbè però me l'ho aspettato un pochino migliore vabbè bello bello kun shidai shidaji kun shidaji 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 vabbè lui peccato davvero mi aspettavo ah ma sono tutte benedizioni immagino allora scusa eh mi aspettavo più che altro qualcosa ancora ma dammi mi va bene quello normale anche eh del gran nucleo che cosa me ne faccio poi che non mi ricordo teoricamente a me serve il nucleo non lo so non ho idea ah no aspettate a noi serve ancora l'armatura la testa io io ho la corazza e il gambali però mi serve la testa non potevo comprarla perché non c'avevo tipo eh i soldi o i soldi e i materiali vabbè non potevo prenderla però adesso possiamo prenderla c'ho 6700 rupie materiali spero di averli penso al massimo si vanno a uccidere qualche qualche ambulante lì quel coso lì e ok e il secondo è fatto ora il terzo dovrebbe essere qua giusto? teoricamente sempre teoricamente quanti sacrali ci sono che avete scritto che mi avete riempito la testa no no ci sono 4 sacrali vai a prendere va bene vado a prendere grazie 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 a tutti.